metterla a marcia magari no eh anche perché qua dove c'è il buco c'è giù un metro di la no perché di la fa in tempo ma di qua se vai dentro che sbagli vai sotto passano, se no passiamo di qua eh se no passiamo fuori di qua eh sono fermati a pulire fermati a pulire a mo' ah no puliamolo puliamolo va 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 quindi puliamolo sopra lì, qua sotto teoria solo dell'emergenza.